52esimo incontro nazionale di studi delle ACLI si è tenuto a Bologna dal 12 al 14 settembre, una riflessione a molte voci sul tema della mobilità sociale che parte da una amara constatazione. Siamo mediamente più poveri dei nostri genitori e fatichiamo a sbloccare questa situazione. Le ACLI hanno voluto così rimarcare il ruolo determinante dei cattolici nel contrasto alle disuguaglianze. Una per esempio delle grandi attività delle ACLI è quella di ricostruire la comunità con chi è più escluso. L'attenzione più grande delle ACLI è sempre stata quella verso gli svantaggiati per far funzionare la sezione sociale, per dare delle opportunità a chi non ce l'ha. Abbiamo invece bisogno di dare speranza e quindi di creare un paese dove il diritto all'istruzione, alla formazione, a crearsi un futuro sia per tutti, sia per tutti i ragazzi e tutte le ragazze. Ed è da questo che bisogna partire. Le disuguaglianze non si elimineranno mai con la redistribuzione, ma si eliminano con la predistribuzione. Cioè dire, bisogna intervenire sul momento in cui il reddito e la ricchezza sono prodotti e non intervenire post factum dopo Chiesa, perché diversamente è come trasportare l'acqua in un secchio bucato. Una delle cause serie della sfiducia degli italiani nei sistemi democratici è il forte gap esistente tra la realtà e la sua percezione, come constatato da una indagine che ACLI ha commissionato a Ipsos. L'Italia, come percepita dagli italiani, non esiste. Le ricerche che noi realizziamo mostrano che c'è una distanza molto profonda tra quelli che sono i dati reali e quelle che sono le percezioni dei cittadini, sui grandi temi di attualità sociale, dal numero di migranti a quelli di disoccupati, le persone meno giovani e così via, fino a fenomeni anche magari che hanno a che fare con lo stato di salute delle persone. Allora, quello che in realtà emerge è che c'è davvero un'attitudine a enfatizzare la portata di questi problemi e soprattutto gli allarmi sociali. Questo rappresenta un terreno molto fertile per la semplificazione dei temi, la semplificazione del linguaggio e la semplificazione anche delle proposte politiche. Risulta essere un terreno fertile per forme di populismo che in qualche modo intercettano domande, paure e preoccupazioni che in larga misura hanno a che fare con il fatto che l'ascensore sociale si è interrotto e che la mobilità sociale è fortemente stagnante. È la prima volta, dal dopoguerra in poi, che viviamo anni nei quali siamo convinti che i nostri figli staranno peggio di noi. Questo toglie speranza e togliere speranza vuol dire alimentare le paure e le preoccupazioni.